I nostri ospiti, Fabrizio Bellone, buonasera prof. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Che succede? Sono incavolato nero e ne ho veramente tante da dire oggi. Ma io l'ho detto per te, questa cosa delle parole, mica per i nostri amici a casa. Mi sono scritto alcune cose, di quelle che non voglio dimenticarmi di dire oggi. Eh, ma è un elencone, è quello. Sembra quasi il comunicato di oggi della squadra. Ecco, dobbiamo partire da quello? Ci sono voluti dieci minuti per leggerlo, signori, dai. No, vergognoso, comunicato stampa. No, ma non esiste affatto. Allora, io commento soltanto la fase finale di questo comunicato stampa. La frase finale. La squadra sta valutando di dare un segnale forte. Che potrebbe essere addirittura, si dice, quello di non giocare a Cittadella. No, 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 vogliono dare un segnale forte. Vincano a Cittadella, santo cielo. Sono tre mesi che non vincono una partita. Quello è un segnale forte da dare. Si risponde in questo modo qua. Hai preso due schiaffi, rispondi vincendo la partita. Poi non vai sotto la curva a festeggiare. Ma rispondi come sai rispondere. Non che ci metti dieci minuti a leggere un comunicato perché fai fatica a leggere e stigmatizzare. Ok? Allora, sei capace a giocare al pallone? Rispondi lì, per favore. Spero di non essere andato troppo oltre le righe fin dall'inizio. Hai acceso? Hai acceso? Ma per carità, ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe. Anche perché condivido, devo dire che in massima parte condivido. Arianna Lucania, Toro News.